questa è la sessione di cristina ciao elena ciao 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 conto da 5 a 1 5 4 3 no e e e e e e e ok ci sono ok ti ricordi alla fine poi vado a vedere una cosa ok te lo ricordo come vedi cristina se la vedi allora sì e lei vedo questa cosa strana mi è già venuto prima mentre ci diceva i punti ho visto che come se lei andasse da una linea temporale all'altra spesso però adesso in questo momento c'è la linea temporale dove stiamo facendo questa sessione e c'è l'altra linea temporale ed è come se c'è come se ci fosse questa sessione anche di là quindi lei è come se avesse doppiato no 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 c'è solo tipo un collegamento con l'altra sessione allora semplificiamo la qua lavoriamo di linea temporale quindi sempre un casino quindi mettetevi gli occhiali se state guardando la sessione che è un gesto da concentrano è già è sempre un casino quindi immaginate che siamo già nella metafisica tempo non esiste tutti piangono vanno a vedere la televisione è più rassicurante canale 5 che sentirsi dire che il tempo non esiste tempo però non esiste quindi è una variabile quindi editabile gestibile quindi ci possono essere diverse linee temporali dove siamo tutti in tutte le mie temporali siamo presenti primo cristina ti dà l'autorizzazione simile detto no sì sì ok la linea temporale 1 è questa in cui siamo adesso cristina elena e lucio l'altra come la chiamiamo due si chiamano la due ok quante altre ne esistono per cristina ma realtà sono queste due che viaggiano parallele in questa vita di cristina e salta da una all'altra sono ok tu continui ai di linee temporali parallele 5 io 4 quindi a seconda della persona ce ne sono diverse se e quella in cui ci troviamo adesso sono è sempre la 1 se adesso in questo momento siamo sulla 1 ok in una di queste linee temporali c'è cioè mettiamo che arrivano gli alieni dal cielo e spaccano tutto quella linea temporale lì ce l'hai anche tu ce l'ho io e c'è la cristina dove c'è un evento gli alieni arrivano dal cielo aspetta perché mi sa che penso che sia quella che siamo stamattina qua quale quella degli alieni se che arrivano gli alieni dal cielo a questa agli alieni non sono alieni veri vedi io vedo che sono fanno vedere che sono gli alieni si fanno vedere con blue beam grammi i dischi volanti per quale fine quando quando nel qui e ora in questo come le condizioni di oggi fine giugno e cosa racconteranno racconteranno che che sono venuti ad aiutare a salvarci i pleiadiani come era già successo la stessa storia che avevano fatto credere po di anni fa ammosa no no un po di anni fa tra il conflitto tra stati uniti e russia quando c'era bush fatto credere non ricordo quello che mi hanno detto c'è la so questa informazione che c'è qualche c'è qualche canalizzazione che dice che in teoria canalizza questi pleiadiani siriani no pleiadiani pleiadiani che sono andati praticamente hanno fermato loro l'attacco tra stati uniti e russia con le testate nucleari e poi sono andati e appena appena prima sono andati dal papa a dire che lui doveva appunto dire che dovevano smettere questo conflitto e quindi diciamo che la cosa è così praticamente sia russia e stati uniti si si erano resi conto che non può che c'è le stati uniti pensavano di essere meno forti dei russi e quindi si sono tirati indietro i russi pensavano di essere meno forti degli stati uniti si sono tirati indietro ma la facciata non doveva essere questa la facciata doveva essere che i pleiadiani insieme al papa hanno convinto stati uniti e russia a non a non attaccarsi ok sarà una scena del genere ma in questo caso ci sono i pleiadiani di mezzo o sono degli ologrammi no 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 ci sono solo ologrammi questa volta sarà si vedrà anche perché pleiadiani li buttiamo nei buchi neri mettiamo gli ad eterno ma come proposta dalla mattina alla sera non so quanto ce ne sono più infatti va bene abbiamo tante cose da vedere oggi vibrazione di christina diamo velocissimi 87 miliardi percentuali di consapevolezza 183 psp 41 59 vite precedenti 1228 cervello 9,4 è una piccola fuoriclasse cristina causa esoterica della sua tendenza a vivere al limite della povertà allora c'è questa intercede questo felinoide che crea sempre situazioni esterne per far sì che lei stia lì perché sarebbe troppo potente potrebbe fare troppe cose già fa tante cose così che vanno contro le interferenze se lei potesse essere anche tranquilla a livello economico veramente poi non la fermerebbero più adesso non d'accordo con questa visione diciamo che un successo economico sentimentale e altro creano scatenano una bestia in realtà le entità non esistono quindi siamo noi che ci stiamo ponendo delle condizioni ma è vero che specialmente per un discorso sentimentale a volte non siamo solo noi quindi è forse più semplice il benessere economico perché dipende da noi che se viene essere sentimentale sono un po condizionato secondo te un po così un po così ok causa esoterica delle epistassi lei e i fratelli che chiamiamo nel cinema se tra i fratelli tutti e tra in filo ma fila è arrivano tutti insieme hanno fatto un mega esperimento familiare tra virgolette di nome l'esperimento mi è venuto con bricola principalmente studiavano se le abduction era il togliere energia la ps funzionasse su tutti e quattro nella stessa maniera per vedere se era una cosa legata diciamo allo stesso dna che quindi c'era questo monitoraggio e in più dopo era chiaro che non funzionava uguale quindi hanno visto che c'erano altre varianti e quindi provavano a hanno provato con vari impianti e vari impulsivi di informazioni a cercare di far sì che il messaggio fosse uguale c'è quindi che la cercare di trovare la diciamo la formula perfetta per arrivare a prendere la quantità di energia della ps ideale per tutte le persone no quindi su quattro fratelli con lo stesso dna era un'opportunità molto io per riuscire a capire quali variabili modificare vabbè queste sono entità programmi robottini che fanno i loro esperimenti che sei contenti poi si capisce che cosa se ne fanno di questi dati no niente alla fine abbiamo abbiamo bisogno di di avere qualcuno che ci rompe le scatole e abbiamo dato un senso devono fare gli esperimenti ma poi alla finestre esperimenti e che gli serve hanno quattro fratelli con quattro dna gli fanno venire le pistassi capiscono che le pistasse collegata che ne so al gene xy e z e poi poi qualcosa poi niente quindi chiamiamole tutte queste entità chiamiamo felinoide e si renda conto il felinoide di se stesso specchio magico oggi ok ecco i begli specchi ovali che avevano un fulco a metà in orizzontale ognuno adesso delle entità che chiamiamo che interferisce con cristina al suo specchio magico davanti sì cosa vede felinoide il flesso e magico e lo specchio ti dice chi sei se allora se lino avete diciamo il suo contorno che una stringa di dati poi all'interno c'è vuoto e tranne che la parte centrale che è una specie di struttura sono di parallelepipedo che può ricordare una serie di circuiti elettronici questa è la nostra soluzione scena io sollevo il ferinoide non penso no nel senso che pensava dice che non pensava di essere un computer pensava di essere una qualcosa di più consistente lui sapeva che arrivavano dei mesi delle corte i comandi che poi doveva agire ma non pensava di essere un insieme di dati chiamiamo tutti gli altri che interferiscono con cristina ci sono solo quei due militari che hanno cercato di fare l'abduction ultimamente con dietro questa realtà sì quell'essere alto lì io direi mi ricordo mai se può essere un può far parte dei grigi perché vedo proprio come ha detto lei tipo un mano la figura tipo umanoide ma stretta e allungata potrebbe apparire con come se avesse un mantello col cappucce sotto vedo tipo un bianco grigiastro mi ricordo ma sono grigi o cosa sono vabbè entità umanoide grigia alta nessuno nei film sono tanti e quindi fantascienza sono tutti così da fine se ci pensi un po nel film avatar al di là del fatto che sono blu sono un po così sono sempre sento ma alti sono tanti film sono anche mi posso ricordare di mezzo tra avatar e ti direi bene mettiamo questo grigio chiamiamolo così davanti allo specchio maxi vogliono guardare o vogliono scappare allora mandrebbero via ma c'è gioco lo facciamo noi quindi proprio non possono c'era che possono non possono cioè come se io come se la quello che ti posso dire che come se la parte di tentare di scappare noto di rimanere va 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 fosse già fosse già risolta nel senso che è mai passata direttamente perché cosa vede che si gioco grigio vede che ha delle parti metalliche quindi potrebbero assomigliare a degli impianti che cercano di mettere a noi da noi ma sono più strutture e poi c'è una parte invece tutto il resto è fisico quindi è un biologico sia una parte si insomma che i grigi siano dei robot biologici quindi si creati al laboratorio addirittura forse anche a pezzi si adesso i due militari davanti allo specchio allora viene fuori allora esternamente sono fisici c'è quindi la struttura corporea potrebbe essere biologica fisica ok e poi si vede vedono loro una parte di loro dna che è rettiliano e come se dei tessuti interni fossero più rettiliani che che ma umani potrei dirti cioè se vado a guardare nel dettaglio posso dirti il rivestimento dello stomaco piuttosto la parte interna del torace rivestimento dell'intestino sono delle strutture interne che sono rettiliane e poi c'è tutta una parte cerebrale che prende come se le informazioni che arrivano invece che essere elaborate come umano sono elaborate come rettile adesso cristina vado avanti al suo specchio magico cosa vedi vedo i cinque corti e cinque parti nello specchio per renderle comprensibili possiamo dire vengono messe una dentro l'altra però poi gliele fa vedere come se dividessero specchio in due quindi poi li fa vedere queste parti una dentro l'altra e poi da di fianco le sovrappone che quindi è come se si vedesse il colore la struttura di ognuna sovrapposta all'altra quali colori allora c'è la parte animica che ne vedo questa specie di gel allora all'interno con gli altri corpi e sull'azzurro chiaro l'azzurro bianchi poi c'è il corpo eterico che può essere potrebbe apparire tipo colore tipo metallico però più sul col colore del mio muro nomine ecco più una cosa così diveniva poi c'è la parte la parte emozionale che era tipo una rete rossa poi c'è la parte mentale che in cima ed è una specie di è una struttura via di mezzo tra solita e più più malleabile ok modificabile sul blu viola e poi c'è l'involucro fisico che che li appare come se fosse cioè diciamo che si vede quasi solo il derma era la pelle no per rendere l'idea del fisico nello specchio lei si vede gli impianti se ne ha dove non si vedono solo gli impianti si vedono anche se dove che ne so nel corpo fisico dovete ha delle delle infiammazioni oppure nel corpo emozionale dove ha le emozioni negative che si può lei può vedere tutto oggi abbiamo inventato lo specchio magico ecco perché mi sono svegliato con lo specchio magico la testa benissimo a ci sono entità mentali ce n'è una di livello 2 varia tra l'uno e il 2 e basta se cosa fa diciamo che mantiene la sua mantiene le sue vibrazioni basse di potrei dire di mi viene una parola per spiegarlo bene dispiacere ma non è dispiacere dolore c'è il contrario di piacere dispiacere sì però non come dolore non piacere è non piacere non che mantiene queste vibrazioni negative tutto va male è quando va male c'è la l'entità di livello 2 la mantiene lì in quell'emozione lì per esempio i suoi compagni la ritengono troppo impegnativa anche questo se vogliamo al lavoro sono tutti interferiti esatto 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 io adesso vediamo la questione lavoro io sopravvivo sopravvivo mantiene quella vibrazione sì esatto ma pensavo anche più alta come entità mentale impianti dove sono allora c'è un piccolo impianto mentale più o meno a metà è un piccolo disco appena appena lì poi c'è un impianto teri con più o meno qua più o meno all'incrocio tra le clavicole lo sterno poi c'è un impianto in corrispondenza del corpo emozionale delle emozioni negative quindi più o meno sotto l'ombelico poi a quella struttura che vedo ogni tanto che cercano di mettere con le specie di impianti che mettono sui piedi per cercare di disconnettere la persona dalla ps ok e c'è stata un'entità mentale legata al suicidio in passato come capita spesso stavo guardando l'entità mentali e vedevo che nel passato c'era stata un'altra entità mentale anzi ce ne siano stati due e tu me l'hai chiesto quali sì allora ce n'era una di quella legata al suicidio era di livello 7 però era come se saltava da essere di livello 5 livello 7 ok quindi livello 5 un po era più una cosa questa vita non ha senso cosa sto qui a fare quando era livello 7 era proprio l'idea di farla finita ecco vedo che per far arrivare al tipo l'attentato suicidio intorno 8 a volte 9 quando invece proprio uno riesce a fare a suicidarsi e 10 è proprio l'energia dell'antivita tra virgolette e diceva di 7 a 7 e poi ma forse era questa perché ne vedeva un'altra di livello 5 ma era la la 7 che ogni tanto diventava 5 la 7 che diventa 5 allora ci sono entità mentali che switch hanno nella linea temporale di cristina ok ci sono entità ci sono impianti poi c'è lo specchio magico c'è il progetto con briccola i fratelli sono nel cinema perché sono tante cose le pistassi l'abbiamo vista se la sensazione di morti è imminente e quando quando salta da da una linea temporale all'altra ok chiamiamo la seconda cristina nella seconda linea temporale numero 2 e la facciamo venire con un paradosso nella 1 specchio due cristine può col paradosso lo impedisce allora come se facesse una copia temporanea in questa linea temporale nel senso dovrebbe perché perché se rimane nell'altra linea temporale e la ps c'è la ps come se riuscisse a essere in una in una delle due cristine solo ok può cambiare ogni istante quindi magari se noi facessimo cambia cambia un istante allora potrebbe essere che l'altra che l'altra cristina possa venire di qua ma se lasciamo cristina per fare il lavoro in esoterico su cristina in questa linea temporale la ps deve essere con cristina qua ok quindi per poter vedere l'altra cristina come se ci fosse una copia che la fa vedere la sua totalità ma per agire deve agire la cristina nella linea temporale di là ok cristina io posso dire quel monumento posso dire quella fontana ok fontana di piazza san babila quella cristina della 2 non ce l'ha la crisi acqua se la insisto io voglio la cristina 2 che con il paradosso implodendo la 2 viene nella 1 e si unisce alla 1 ok la vita è già complicata linee temporali doppie non ci interessano siamo noi i creatori lei crea lei vuole la 2 si unisce con la 1 ok passa attraverso lo specchio ed entra nella 1 e la linea temporale senza la fontana di piazza san babila non esiste più così non abbiamo più la morte imminente lei cristina di là è arrivata e si è unita cristina di qua definitivamente però c'è completamente ok e tutta una parte tutta una parte intorno a lei una grande parte intorno a lei anche andrà avanti il processo non è finito perché ci sono tante energie che che devono essere che non so come dire devono vedere questa cosa ok quindi sta andando avanti il processo ma non è ancora completamente chiusa l'altra linea temporale ma per tutti o per cristina per tutto ciò che riguarda la vita di cristina ok è un processo che prende del tempo si sa quanto ma non è un giorno deve stare e essere molto centrata oggi domani e dopo domani era tale che non che non possa tornare quella linea temporale di prima ha senso ed è utile alla nostra esistenza ridurre a una le linee temporali quindi tu ne 5 tu ne 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 riduce a una io ne ho quattro e la riduco a una e questa una è quella che io desidero io voglio in cui io decido cosa deve succedere secondo me io e te lo facciamo già nel senso che io vedo che le mie è come se questa fosse quella principale di questa vita e poi ogni tanto gli metto in mezzo dei pezzi di altre ma possiamo unirle tutte però secondo me dobbiamo essere centrati sull'obiettivo perché poi dopo diventa troppo troppo cosa troppo a livello fisico c'è non che non riusciamo a farlo ma diventa confusionale perché è come se in un'ora dobbiamo fare le cose di cinque linee temporali non c'è capito ma in alcune linee temporali ci sono delle alternative cioè ci dobbiamo switchare io di stare a casa oggi in un'altra linea temporale di buttarmi dal primo piano dove non muoio ma mi spacco le gambe e a quel punto le gambe rotte quella un'altra linea temporale non voglio fare le due esperienza stare a casa sul divano di buttarmi dal primo piano avere le gambe rotte io voglio fare l'esperienza che mi interesse voglio creare quindi siccome delle gambe rotte non me ne faccio niente e probabilmente l'ho anche già fatto come esperienza in altre vite sto a casa sul divano e quella la elimino la compatto nel senso che la elimino come ben sai io alcune esperienze non le voglio fare e quelle le ci sono però quindi quelle le elimino esatto esatto quello no ok l'immagine degli scivoli degli acqua park no ci sono delle scale da fare se arriva in cima in alto e poi ci sono 45 scelgiamo cinque simboli 5 buchi cinque tubi tutti se li fanno tutti e cinque scoprono quelli che man mano di più e al limite ripetono quelli che amano di più l'uno e il due sono i più belli tra il quattro e cinque sono più lenti più noiosi più brutti più corti più non lo so cosa ecco queste sono le mie 54 linee temporali io so già che mi interessa qualcosa della 2 della 3 della 4 ma soprattutto io voglio la 1 allora prendo quelle piccole cose che mi interessano della 2 della 3 della 4 e le metto nell'uno avrò delle cammine le cambia la corrispondenza della 1 perché se non lo cambi poi diventa frenetica e confusionaria la 1 ecco quello di line castro nei tempi morti della 1 diciamo allora poi incastrare allora se vuoi tenere le esperienze sia la stessa esperienza diciamo c'è non in conflitto l'esperienza non in conflitto esatto prima di tutto non in conflitto secondo magari non sovrapporre perché sarà un fusionario e frenetico certo se in una faccio un viaggio a roma e nell'altra no e faccio qualche cosa che comporta stare a casa mia le due cose vanno in conflitto quindi magari parti scelme quasi ecco in quel senso io lo faccio perché francamente su stufo e quindi lo faccio se ovviamente sai bene no e tanto cristina ci guarda dimmi cambiano solo i tempi nel senso che se a tutti i pezzi delle nostre linee temporali che hanno a che fare con altre persone ok funziona c'è avviene perfettamente ma cambiare i tempi c'è magari tempi non sono esattamente come li vogliamo noi perché c'è l'altra parte che si deve che si deve adeguare adeguare la parola va sbagliato perché poi sembra che magari è esatto o le altre persone si trovano in un ambiente in parole che non vogliono no perché se ci sono perché la ps la loro ps ha deciso di esserci no ok però l'esperienza è diversa perché il corpo è diverso no può essere un'altra ps è un altro corpo e quindi l'esperienza è un pochino diversa con un'altra sfumatura quindi magari tempi e alcuni modi sono sono un po così però tu sa che io non sono molto d'accordo su questo in realtà tutto è possibile è tutto possibile subito anche non ci sono regole non ci sono cose non è un capriccio il mio tutto possibile queste sono tutte palle che si inventano le ps per fare il gioco più divertente è certo stavo per dire quello nel senso che in questo caso vedo che così allora io direi che possiamo fare un'altra cosa ps le ps o parti di ps e persone in eterico davanti egli si fa vedere la nuova creazione le informazioni con gli strumenti della nuova creazione ok specchio anche qui quindi parallelamente lo fa cristina lo fai se vuoi tu lo faccio se voglio io quindi quello che era tutto frammentato ora è concentrato e comporta delle scelte e delle eliminazioni anche di gap temporali quindi di ritardi se il famoso ritardo che dicevamo il gap no esatto che probabilmente vedi l'abbiamo trovato dove era infatti il tra il l'eterico ed il fisico esiste un gap a volte eccolo qua eh sì infatti la minestra all'acquata in 45 piatti io ne voglio uno se esattamente è quello invece di quattro minestre con quattro pezzettini di verdura in giro voglio una minestra bella densa col cucchiaio verticale con tutti gli incastri giusti e con un po di acqua in meno perché qualcosa va sacrificato i gap temporali sono quest'acqua che non ci serviva e che rende ora la nostra minestra una zuppona densa sì ok fatto se cosa fa cristina cosa ha fatto cristina cristina ha cambiato ha tagliato come se tagliasse a parte della risertezza economica e quindi ha tirato via sia allora come ha tirato via sia a livello di matrix ok quindi concreto e poi sopra come se ci fosse una corrispondenza una corrispondente eterica che con tutte le interferenze quindi ha tagliato proprio tutto il pezzo e l'ha cambiato con l'altra linea temporale che dove nell'abbondanza e l'ha messo al posto di questo poi ha cambiato la parte relazionale di carico con sopra corrispondente l'entità mentale 2 l'ha tagliato e ha messo la corrispondente dell'altra linea temporale dove c'è un'esperienza tra virgolette normale nel senso neutra rispetto a questo a questo aspetto ok e con si è messa due possibilità si è messa 23 possibilità 222 anime affini sulla strada oppure una relazione più con un anima più normale c'è non ha fine comunque che può essere costruttiva quindi lei ha tre possibilità e durante il suo percorso tra cristina cogliere se incontro l'anima una delle due animi affini o una persona che non è una prima anima c questo di specifico ok cosa succede nel 2010 per cristina ok la fontana ma perché del 2010 è come se prima prima di questa sessione lei successe tra le due ps andasse tra una tra una linea temporale 1 e 2 saltando nelle esperienze più come posso chiamarle dure non ha non dal senso esperienza più impegnativa più beniativa esatto perché così l'idea della ps era che era perché adesso ha cambiato idea e vedendo facendo questa parte di consapevolezza sulle linee temporali adesso non la vede più così però lì era proprio fare l'esperienza più impegnativa e profonda così da farla e salire di consapevolezza che probabilmente è stato molto utile e ha scelto bene tra virgolette per arrivare qua ok probabilmente magari non sarebbe arrivata alla sessione e a questo livello di consapevolezza se non avesse fatto così la ps quindi ora vedo una buona scelta finora adesso ha visto tutto quindi consapevole di questa cosa ha unito le due linee temporali e diciamo che ha senza interferenze se non arrivano altre interferenze lei a tutti prossimi anni a tutti gli anni di creazione di creazione di abbondanza abbondanza mi piace chiamiamo la nonna materna tutti i parenti di cristina che vogliono venire non analizziamo molto oggi non abbiamo nessun messaggio portale aureo e via poi dimmi solo se vedi perché la nonna materna era così orribile boh mi appare come una è apparsa come una strega come una donna di un'altra che in un'altra vita e aveva poteri particolari ed hanno l'hanno messa al ruogo e come se avesse ancora quel carico lì c'è questa vita doveva essere molto mentale e molto rigida perché tutta la parte animica per lei è stata pericolosa ecco come se avessi dovuto fare l'esperienza opposta bene portale aureo e via e dimmi quanti altri vengono nel dei parenti di cristina 73 ok tutte le vittime di cinivac dall'ultima volta che abbiamo fatto oggi dentro portale aureo tutte niente più papa moloch ok sono entrati oltre e lo chiudiamo sì ok cosa fanno i fratelli non se l'aspettava proprio consapevolezza zero rispetto a tutta questa parte quindi io la vita a tutti e tre i genitori non sono venuti sono a metà sì sì sono venuti da soli e sono metà della sala quindi cinque vick e cinque fogliettini dove ci sono le informazioni per crearsi una d'eternum o più ad eternum personalmente ok causa esoterica della imminente perdita della casa è sempre filinoide cambiando posto ora lei avrebbe potuto venderla e avrebbe potuto sollevarsi un po a livello economico no è questo non va bene questo non andava bene fino ad oggi che lei doveva essere tenuta un po a infatti c'è mi è arrivato proprio l'immagine adesso esatto c'è quello lo scopo di queste tre interferenze quindi quella mentale militari e felinoide e proprio era proprio agire su questi due aspetti della sua vita quindi l'abbondanza economica e l'abbondanza affettiva coppia perché se no lei riesce a fare il botto cioè lei riesce a evolvere tantissimo però è stata sospesa perché non si vuole cini vaccare è un certo no no questo comporta la sopravvivenza se questo mi piace siamo nell'abbondanza dove sapere se noi creiamo è esatto la sua ps non ha creato anch'io c'è nel mio caso per esempio la ps lungimirante tra virgolette quindi senza che io ho sentito è una mia che è esatto mi sono arrivati altri lavori ok quindi per me c'è come quasi che non me ne fossi neanche accorta anzi anche aumentato esatto no quindi è proprio sono arrivati addosso proprio uno di l'altro così sì esatto quindi è proprio questione di creazione no se tu non hai consapevolizzato ancora quell'esperienza passi devi passarsi lì ok cristina deve restare è tornata a casa cambiato regione tornata a casa e lei non ama questa cosa è tornata a casa dei suoi la casa che ha lasciato è quella del mutuo la casa che sta per perdere qual è la situazione potrebbe creare una situazione completamente opposta quindi essere di nuovo indipendente magari non lì magari in un altro posto comunque l'ho vista molto chiara io mi è arrivata proprio così magari non faccio nomi di posti però poi dopo diciamo sì l'ambito medico si essenziale assolutamente e quindi essere indipendente nell'abbondanza tranquillamente così va bene e facciamole creare anno ad eterno ma vediamo come lo crea la portiamo nel museo palestra e le insegniamo un po di cose le insegniamo anche la eterna frequenza che non ci siamo dimenticati di lei non ha un effetto a un effetto diverso dalla d'eterno e non ha un effetto da sottovalutare la prezzo con l'intento di contrastare i ponitam suoi che effetto hanno avuto i ponitam tu nei fatti no cristina qualcuno si ricordano giusto che effetto hanno avuto allora c'è stato mentre gli facciate un deposito di sostanze sulla mucosa che poi sono entrate nel circolo e la sua ps ha creato questi questi fastidi perché ha contrastato questa cosa sta cercando di contrastarla e lei sente la reazione a livello fisico come vedo allora vedo come se avesse un sintomo un po livello sistemico quindi come se avesse come se sentisse qualcosa circolare fastidio anche locale e un po di stanchezza di spossatezza un po di affaticamento ok eterna frequenza fatto fatto e adesso lei la che ne crea via d'eterno che sa creare e li mette dove le pare può metterne tutti quelli che vuole in quell'ospedale tutti nella sua regione tutti quelli che vuole nella sua regione uno gigantesco nella sua casa lontana che si può metterne come se le diventasse legale rappresentante quella casa se la tiene la seconda linea temporale di cristiano esiste ancora manca ancora poco e non esiste più ok che succede se mettiamo dei quadri ad eternum 12 anni con i tram degli ad eternum nella lina temporale 2 accederà il processo ma tu la vedi come una strada se una striscia e una striscia esatto a una fine no no si intercana no sì io riprende c'è solo lo step tra una vita è nata un'incarnazione un'altra dimmi se vedi una cosa simile se quando in una strada e c'è una nebbia molto forte per cui tu non vedi la fine della strada è una cosa così più vicina più lontana però c'è comunque nebbia e non vedi l'orizzonte dipende dipende con che parte di te la guardi se tu la guardi in eterico e tu sei in primo piano nella linea temporale vedi tutto vedi fino all'infinito però tutto sovrapposto quindi non ti è chiaro se tu la guardi dal punto di vista mentale o fisico allora davanti è come sei muri il muro del fisico del mentale quindi hai la tua struttura in quel momento e i tuoi pensieri e i tuoi blocchi mentali davanti non so se c'è nel posto della neve è come se ci fossero questi due filtri ecco ok quindi se lo guardi in eterico e poi se guardi l'aspetto della ps se io guardo la linea temporale guardandola dal punto di vista della ps io vedo le variazioni di vibrazione sulla linea ecco andiamo al cluster visto che la seconda linea temporale esiste ancora ci sono dei contratti che tu vedi distinti della seconda linea temporale che stanno sbiadendo da soli sì sì sono quasi sono quasi scomparsi del tutto poi c'è alcuni sono già andati appunto diciamo la parte la cerchia più vicina a questo momento delle linea temporale di cristina già non c'è più e pian piano e si sta spiadendo tutta ok come li vedi contratti come dei gomitoli di lana ma quelli che usano i gatti per giocare c'è un po più compatti non fatto così via tutti chiuso ed un grande ad eternum che lei crea e si mette qui si è messo alta per vedere come lo vedi avete immobilizzato lo vedo spento fermo e immobile via non ci sono due avatar per due linee temporali vero no 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 è una c'è se vedo un avatar in azione che una ps che cambia linea temporale è come se avesse successe pagina come se successe utente sullo stesso computer non so come dire schiaccia sposta da qua la ecco ok ci sopportare definitivo va bene torniamo di qua vediamo se c'è ancora qualcosa della seconda linea temporale che non ci piace che in realtà ci piace ma che va a collassare nella prima in modo da rendere il complicato semplice diluito concentrato lo sperso sotto controllo parliamo sempre di centratura cristina e la centratura ha già eliminato tutto questo è una già gran bel lavoro ora si deve rendere conto che tutto è andato via e lo verifichiamo se lab d'action con i militari l'uomo alto non ancora no il felinoide simpatico che si è visto lo specchio e si è reso un po un po ridicolo con se stesso il grigio vabbè i due militari i mezzi robotici mezzo no ci sono ancora no gli impianti no c'erano e dl c'erano cloni cloni no c'erano 3 dl non ci sono più l'entità mentale 1 275 via insieme ok lei si può creare adesso una d'eternum e metterselo nel corpo dove qua proprio su tra il polmone il fegato il polmone destro il fegato emozionale sotto l'ombelico eterico ci vanno a testo mentale dove c'era l'impianto mentale al posto dell'impianto mentale e subliminale bene gli effetti del bonitam per quanto le riguarda la riguarda li annullati in eterico già già fatto si il fisico ci vuole ancora un pochino però giorni ma magari anche un paio di mesi ma sta proprio processo è proprio quello ideale sta andando ok lei e quanti ad eterno il maestro nei circa gli argomenti riguardanti l'attualità i cinivac e cinivac e bambini tutte queste cose che la preoccupavano molto che giustamente lo preoccupavano molto ma mi avviso quello che ci dovrebbe preoccupare maggiormente è il nostro di percorso poi il resto non il resto e poi ne basta il resto e poi a vabbè ma io no no io e se ci pensate tutti facessero un discorso del genere gli altri non ci sono più perché non pensa veramente a se stesso fare chi va venirebbe se quanti ne ha messo nessuno per ogni bambino quindi tantissimi ai tanti 370.000 ma io vedo tanto concentrato anche nella sua regione ok che abbiamo tutti i nostri ex clienti che facciano la stessa cosa ognuno nella sua regione chi è il più bravo la più brava senza dire il nome ma chi lo fa come lo dice a cristina serve ancora lo specchio magico basta uno specchio normale per allenarsi e in questo magico si vuole specchiare un'ultima volta chi c'è di là che la guarda allora c'è ci sono allora diciamo che ha ha tenuto tutte le parti con più forza e più consapevolezza di tutti e due le cristina e ha unito le varie parti loro due quindi vedo come se ci fosse un corpo fisico quindi il bordo che si vedeva prima più spesso e quindi più forte vedo il corpo emozionale che è molto più energico quindi muove molta più energia vedo proprio che fa questo lavoro molto di più prima lo faceva molto poco adesso proprio si vede molto evidente vedo il corpo la parte eterica che come se avesse sostituito delle parti e come se si fosse un po rigenerato no quindi è riuscito a cambiare switchare le parti che andavano bene di una cristina con quelle dell'altra ok quindi vedo anche questa struttura di metallo beige più forte la rete del corpo emozionale vibra in questo momento vibra tutto positivo e poi c'è il corpo mentale che ha tolto tutte le come se avesse tolto i limiti pensieri limitanti ok e avesse tolto in questo momento tutte le parti in eterico ha tolto proprio tutte le parti limitanti tutte le parti che erano un po cicatrizzate tra virgolette nel senso quindi quei pensieri ricorrenti che rendevano il corpo mentale statico ha tolto tutte le ha tolto le paure ha tolto i ricordi negativi che quindi ha tolto tutta questa parte qua in eterico ha fatto si può fare una grande pulizia comunque in questa maniera con lo specchio cioè si può quello che abbiamo fatto noi oggi così prendere i vari pezzi delle varie linee temporali e metterli assieme in eterico si può fare con lo specchio magico è nato lo specchio magico oggi quindi devo svegliarmi più spesso con delle cose in testa che ci erano figurati cosa potrei fare se stai attento la roba lì guarda poi lì è per quello che ho capito ok messaggio finale di psp e di cristina cristina allora con lo specchio normale perché dobbiamo concretizzare le cose siamo qua nella matrix e per renderle efficaci bisogna concretizzarle quindi con lo specchio che le nello specchio e tutti i giorni parti con una quanti allo specchio una riorganizzazione di tutti i corpi ok quindi fai tipo un check tutti i giorni di tutti i corpi e se c'è una cosa che tu vedi allo specchio che secondo te vibra basso ma sostituisci così crei così crei quello che vuoi crei la realtà e in effetti dove tu vivi ho già visto prima di sotto c'è il modello se quindi in quel punto lì molto concentrato quindi gallerie e buchi e se si però proprio perché c'erano delle estrazioni li conosco molto bene quella zona è se lì sotto c'è l'ho fatto anche un'analisi da poco con con stefania va bene questo è il messaggio se stai tanto all'aria aperta la bellita di manala ha dato per centrarti e allenarti alzare le vibrazioni queste sono le cose che devi fare ora i fratelli come li vedi sì allora prima erano un po così sconvolti tra virgolette nel senso che proprio non consapevole di tutto ciò 0 quindi un po così dopo che le abbiamo dato la pic e come creare la d'eterno si sono un po più rilassati ma adesso sono vedo come se fossero un po confusi nel senso che devono trovare il modo per poter andare verso la loro consapevolezza possibilmente quindi in eterico come se dovessero trovare una strategia per rendere la consapevolezza in eterico anche nella matrix ecco è come la vedi allora lei la vedo in questo momento la vedo che pronta fosse vestita da corsa e la vedo pronta ad andare nel mondo e mettere la sua vibrazione la sua energia quindi quello che lei vuole intorno a sé e quindi come se volesse anche nella matrix sostituire la linea temporale 1 divisa dalla due in linea temporale 1 e 2 assieme arriva l'abbondanza se lei rimane centrata e si allena a creare con lo specchio lei può creare quello che vuole assolutamente sì letteralmente tenersi la casa se si vuole quella cosa lì può tenere se vuole un'altra può prendere quello che vuole compagno accanto benissimo perfetto ma abbiamo finito